dobbiamo mangiare uno di noi mangiamolo? si mangiamolo signorino facciamo i bambini questo cartello metteremo dei faglietti con il nome del candidato siamo riuniti per risolvere lo scontente problema dell'alimentazione bravo aiuto aiuto che mi avevo detto? sentite mi sento finalmente un uomo nel vero senso dell'alimentazione non dite del resto che ormai è felice così ed è appunto per questo 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 Grazie a tutti